Andate a votare e votate no. Il no è l'unico voto sensato. Questo referendum è un grande raggiro retorico e demagogico. Pensateci bene. Conoscete le ragioni del sì? Si tratta di votare 47 articoli. Quasi nessun cittadino italiano sa di cosa si tratti. Ecco perché votare no, per non farsi ingannare.